Il calendario dell'attività politica è un po' simile a quello dell'attività scolastica. In sostanza l'anno inizia dopo la pausa estiva e termina prima della pausa estiva. Siamo quindi, inizia il nuovo anno per quanto riguarda l'attività politica. Gli scenari a livello nazionale sono alquanto confusi e c'è anche sbandamento, si registra un certo sbandamento nel Partito Democratico per quanto riguarda le primarie. Ormai sta diventando un caso il caso Renzi. Sicuramente si inizia dopo la pausa estiva, ma si riprende dopo la pausa estiva perché molti avvenimenti sono avvenuti prima e oggi siamo nella fase dell'epilogo. Io per quanto riguarda le primarie sono convinta che le primarie vanno fatte perché fanno parte ormai di quello che è il DNA del Partito Democratico, lo abbiamo scelto e sicuramente anche per un'elezione come quella del capo del governo deve essere sicuramente un'elezione che coinvolge tutti gli italiani. Sul caso Renzi, io penso che il caso Renzi sia proprio Renzi, non è un bisticcio di parole, è il modo e l'approccio con il quale si affaccia ad un evento come quello delle primarie, ma non si affaccia più complessivamente sullo scenario politico. Io ritrovo purtroppo nel comportamento di Renzi anche una serie di perplessità che ritrovo nel grillismo, quindi non mi convince, anche lui ha vissuto in questi primi giorni di ripresa politica comportamenti ondivaghi, soprattutto per quanto riguarda le battute iniziali, mi sarebbe da dire un po' berlusconiano perché prima dice delle cose, poi se le rimangia, nel senso che prima ha detto che partecipava alle primarie e se avesse vinto le primarie tutti a casa e poi invece ha rimangiato questa cosa e ha detto che non è vero che lui parteciperà alle primarie, se non dovesse vincere darà una mano a Bersani e che non fa le primarie per avere un maggiore peso politico all'interno delle scelte del Partito Democratico. Di contro poi attacca la Bindi dicendo che si è candidata invece all'epoca segretario del partito per pesare. Ci sono una serie di contraddizioni che in un momento così complicato, così difficile, anche così diciamo confusionario, non fanno che alimentare la confusione, io dico, nelle case degli italiani perché poi il dibattito molte volte si riduce anche ad una non scelta per mancanza di chiarezza e quindi la mancanza di chiarezza può diventare un elemento politico che diciamo influisce sulle scelte che poi faranno gli italiani. Altro tema la riforma della legge elettorale, di fronte allo sfaldamento delle coalizioni tradizionali, quale legge c'è da augurarsi, ciò che divide i poli, PD e PDL sono i partiti maggiori, riguarda il premio e poi il sistema per eleggere i candidati, c'è chi immagina le preferenze, chi i collegi uninominali. Al di là io direi di quelle che sono poi le scelte tecniche che dovranno accompagnare la riforma della legge elettorale, si dovrebbe partire secondo me da un assunto che non è più possibile che le segreterie dei partiti nominano i rappresentanti del popolo, c'è una contraddizione in termini, i rappresentanti del popolo li deve eleggere il popolo e quindi questo dovrebbe essere il primo elemento da mettere sul tavolo della riforma della legge elettorale. Dopodiché trovare tutti i punti possibili, se c'è questa volontà, io vedo che va scemando questa volontà, vedo che ancora ci sono barriere molto forti da parte del PDL e quindi anche perché quando gli spazi si restringono per una coalizione che pensa di non vincere le elezioni, a maggior ragione si vorrebbe avere una compagine molto fidata e quindi questo porta in questo momento nel calo di consensi della coalizione di centrodestra, porta anche ad un irrigidimento rispetto a quelle che dovranno essere le scelte di una legge elettorale riformata. La mia preoccupazione è che si va avanti nel tempo, si arriva poi in quel periodo, in quel semestre bianco dove nulla si può fare e corriamo il rischio ancora una volta di andare al voto con il porcellum. Questo sicuramente penso che non sia un bene per nessuno degli schieramenti perché con la confusione di cui parlavamo prima e la sfiducia che in questo momento di crisi stanno vivendo in modo particolare, io parlo del nostro Paese, penso che questo poi ricadrà purtroppo su tutti quelli che sono i partiti tradizionali che andranno al voto. Bond, Eurobond, spread, un linguaggio che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica, per carità temi importanti ma che non toccano direttamente, almeno apparentemente, i problemi, la vita dei cittadini. Perché la storia ormai più che in qualsiasi altro momento sta diventando una storia economica, quindi i nostri Paesi stanno vivendo un momento storico che è strettamente legato all'economia e in modo particolare all'economia europea. Qualche proposta, devo dire, un po' più sensata in questi ultimi tempi è venuta fuori che quella appunto di rafforzare l'Europa politica. Tutto passa di là. Se avessimo un'Europa politica con possibilità di determinare alcune scelte, penso che questo sicuramente potrebbe essere superato, potrebbe essere uno degli elementi. Se continuiamo invece a viaggiare solo ed esclusivamente su quella che è la linea politica o la linea dettata dalla Germania, che in questo momento resta lo Stato europeo più forte da questo punto di vista, tant'è vero che lo spread si misura con loro, quindi non è che si misura con altri Paesi. Dopodiché penso che questa crisi allungherà sicuramente i tempi. Se invece si ha la volontà, a questo punto la volontà politica, così come pare che Monti abbia messo sul tappeto anche d'accordo con Hollande e in parte anche d'accordo con Merkel, che io penso sia la persona in questo momento più in difficoltà perché vive un'impopolarità per le scelte che sta cercando di fare nel suo Paese e quindi ha il doppio problema, quello di mantenere il governo della Germania per quanto le riguarda, ma anche quello di non sfigurare con gli altri Paesi membri, soprattutto con Francia e Italia, che in questo momento stanno dimostrando con tutte le difficoltà di voler mettersi in linea, di evitare di essere in una crisi profonda come quella della Grecia o quella che sta per colpire purtroppo anche la Spagna e quindi stanno lavorando per cercare invece di non soccombere alla situazione del momento. Quindi sono dei Paesi che hanno una credibilità che in questo momento mettono la Merkel in una condizione di fare i conti anche con tutto questo. Molti si chiedono se la politica avrà la possibilità di recuperare un ruolo di primo piano dopo essere stata schiacciata dalla finanza internazionale. Secondo Paolo Cirino Pomicino per recuperare questo ruolo bisogna che le forze politiche riscoprano le culture di riferimento. Ma io ho una memoria molto... sarà che il mio ruolo di insegnante mi porta a lavorare molto sulla memoria, ma io non accetto sicuramente consigli da chi questo Paese l'ha portato alla rovina. Insomma noi dimentichiamo troppo spesso, siamo portati a mettere in luce, a mettere in campo pareri di persone che comunque non hanno fatto molto il bene di questa nostra nazione. Penso invece che sicuramente la politica per ritornare ad essere credibile deve ripartire da se stessa e questo non è certo il momento migliore perché fenomeni come Grillo o lo stesso fenomeno Renzi, osso chiamarlo così, sono quelli che in questo momento fanno politica delegittimando la politica perché sembra che queste persone parlino da pulpiti che non siano quelli politici ma siano quelli dell'uomo qualunque, dell'uomo della strada, non ci dimentichiamo che l'uomo qualunque ha prodotto estremi danni a questo Paese e quindi dovremmo sgombrare il campo e quindi la legge elettorale in questo caso sarebbe un ottimo strumento per ridare fiducia al Paese e per rimettere in campo la buona politica. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortesa attenzione, Tacquino Politico come sempre tornerà domani alla stessa ora.